una buona giornata e un buon fine settimana oggi 30 aprile 2022 è finito anche questo mese è finita anche questa settimana e quindi possiamo dire gloria a nome del signore perché perché siamo ancora qua e siamo pronti per ascoltare il suo meraviglioso messaggio della parola che ci incoraggerà e ci benedirà sicuramente come stai fratello sorella amico o amica che stai guardando questo video come stai come è andata questa settimana io a parte il fatto che ti ho detto che all'inizio di questa settimana ho avuto qualche problemino con forse un virus non so ma il virus appena è entrato da me è scappato via subito dopo un giorno non so come mai però io credo che le preghiere hanno fatto il loro lavoro dio ha ascoltato la preghiera di ognuno però a parte questo posso dire signore grazie perché anche in questa settimana è andato tutto bene mi trovo in veneto ancora con i miei figli mi sto godendo questi quattro giorni di riposo insieme a loro insieme al mio nipotino e questo per me è motivo di grande gioia e lo condivido anche con te ovviamente ma detto ciò vogliamo ora ascoltare la parola di dio che questa mattina ci viene rivolta in questi termini come buoni amministratori della svariata grazia di dio ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri prima pietro 4 versetto 10 fissando lo sguardo su gesù colui che crea la fede e la rende perfetta lettera agli ebrei capitolo 12 versetto 2 il titolo di questa meditazione biblica è questo suonare lo spartito questa sera una parte del nostro complesso musicale prova un nuovo pezzo noi seguiamo con impegno il direttore d'orchestra cercando ovviamente di rispettare il tempo per suonare al momento giusto prima di provare il brano tutti insieme ognuno di noi deve imparare il proprio spartito ed esercitarsi individualmente con costanza tutto ciò suggerisce un pensiero di carattere anche spirituale ogni cristiano ha ricevuto da dio una chiamata un servizio da svolgere seguire lo spartito significa rimanere fedeli alla parola di dio ognuno è invitato a stare al proprio posto nell'orchestra intorno al direttore il signore gesù con la massima diligenza sia che la sua voce celebri con fervore la gloria di dio sia che canti l'hino della speranza sia che sussurri dolcemente la fede che attraversa la prova con pazienza o ancora che resti in silenzio per simpatizzare con il prossimo che soffre il cristiano deve seguire il capo che gli indica il tempo e la cadenza forse hai l'impressione di essere un musicista solitario il solo cristiano fra le tante persone che ti circondano non scoraggiarti segue semplicemente il capo e fai risuonare la tua voce meglio che puoi seguendo da vicino il messaggio divino ama perdona benedici servi dio e il tuo prossimo senza stancarte altri si uniranno a te e un giorno ci ritroveremo tutti insieme per il concerto eterno alla gloria di dio non è meravigliosa questa prospettiva c'è noi oggi possiamo iniziare a collaborare insieme agli altri possiamo magari iniziare a servire dio da sole magari sì però poi si aggiungeranno altre e nell'aggiungersi altre creeremo un'orchestra perché ogni qualvolta che serviremo dio facendo una visita andando a evangelizzare portando un volantino facendo una preghiera per qualcuno facendo l'elemosina a qualcuno in tutte queste cose noi non facciamo altro che suonare il nostro strumento quello che dio ci ha affidato ma nell'insieme nell'unità tutti quanti insieme formiamo un'orchestra e in questa orchestra tu se hai accettato Gesù ne fai parte non sei escluso non puoi escluderti dall'orchestra perché la tua parte è importante anche se sei grande di età se sei anziano voglio dirti una cosa non hai finito finché i tuoi occhi sono aperti tu hai del lavoro da fare finché i tuoi occhi sono aperti tu hai uno strumento da suonare e dio vuole che lo suoni fino all'ultimo giorno della tua vita se sei un giovane voglio darti lo stesso incoraggiamento non sei troppo piccolo per suonare il tuo strumento no no dio te lo ha affidato e dio pretende da te che tu lo suoni quindi la mia domanda è questa e concludo perché non lo stai suonando perché lo hai messo da parte quella bella chitarra qua guarda qua ne ho ne ho una pure qua vicino guarda qua è bellissima quando la prende e la inizia a suonare è bello perché non suoni anche tu lo strumento che dio ti ha dato perché non rimetti di nuovo mano nel servizio che dio ha affidato perché non c'è niente che ti impedisca di farlo forse sei solo tu che impedisce a dio di operare ma dio può usarsi di te anche oggi anche domani anche in questi giorni e se per caso di questo strumento tu lo hai abbandonato lo hai messo nella cantina questa mattina dio ti sta incoraggiando e mi sta incoraggiando nel dirci vai a prendere quello strumento rispolveralo e usalo usalo inizia a suonare perché quando inizierai a farlo o vedrai che dio si userà di te in una maniera straordinaria sai perché perché la sua volontà tu fai parte dell'orchestra inizia a suonare oggi stesso Dio ti benedica e spero tanto la mia preghiera è questa che oggi dio abbia parlato al tuo cuore e non solo che tu possa trovare la forza di compiere quello che dio ti sta chiedendo un abbraccio virtuale e un saluto pace del signore